Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video ASMR Allora, oggi video acquisti Ho fatto un po' di acquisti nel mio negozietto che c'è qua da me Che si chiama Pepco Non so se lo conoscete, non so se lo vede anche voi dove vivete voi Però è un negozietto tipo Primark, ecco E invece di Primark, purtroppo, che non c'è qui Abbiamo Pepco, che è simile, non è proprio uguale, bello come Primark, però è simile Una via di mezzo, aspettando con ansia che mettano Primark anche qui dove vivono io Comunque, ho fatto un po' di acquisti, ho comprato un po' di cose, un po' di piantine, un po' di roba Ho misto vestiti, piantine, robe Visto che sta arrivando l'autunno, finalmente, non aspetto altro, non vedo l'ora Hanno messo cose autunnali e io mi sono un po' sbizzarrita e ho comprato un po' di cose E non la inizio con le piante, che sono le più incompranti Allora, questa è la prima, cioè, è stupenda È stupenda Paso Bello, duro Fatta stra bene Cioè Dai È bellissima È stra grande Me la faccia Sono contenta che sia bella grande così Molto, molto bella Ovviamente di plastica È finta Super carina L'ho pagata 12 euro Se non sbaglio 12 euro Poi Ho preso questa Bellissima Bellissima La metto su La mensola Sopra la scrivania E Ho preso il vaso E poi ci ho messo questa piantina dentro, insomma Super super carina Non mi ricorda quanto è costato tutto Però Non tantissimo Però è bella, guardate Scende fino a qui Già Ovviamente È plastica È finta Non so perché io adoro queste cose Mi piacciono un sacco Prossima Abbiamo questa qui Questa Quattro euro è venuta Bella Anche questa La metto sull'altra mensola Ed è lunga Ficca così Carina Molto bella Bella Mi piace Poi piantine più piccole E ho preso Questi due Sempre Che scendano Lunghe Carine Carine Normali E infine Questa Classica Normale Piccina Super Easy Ecco Poi Poi Andiamo Avanti Allora Facciamo questi prima Ho preso Questi due contenitori Che hanno Che hanno anche già L'antichetta Per scriverci sopra Questi due contenitori Di vetro Per mettere Gli snack Del cane E li metto qua dentro Classici Normali Con questo in plastica E in vetro Sono costati 1 euro E ci metto Gli snack Del cane Poi Passiamo Ai vestiti Il resto Ve lo faccio Vedere Dopo Facciamo prima I vestiti Allora ho preso Felpa di Minnie Bellissima Con Cappuccio Io Ovviamente Mi vesto Reparto bambini Infatti Questa È una felpa Per Bambini Di 13 14 anni E dentro È tutta felpata Cioè È caldissima Perfetta Per l'inverno È Estra morbida Tutta quanta Che il cappuccio E Insieme Ci ho preso Ovviamente I pantaloni Della tuta Sempre Gommini Super Caldi Dentro Anche questi Felpati E anche questi Sono 13 14 Anche questo Se non sbaglio Un po' Strettini Forse Ma Vanno vita Alta Quindi Super felpati Super belli Quindi Approvati E c'ho Il Completo Poi C'erano Questi Pantaloncini Estivi Li ho presi Un po' Troppugiati Un po' Easy Carini Leggeri Per l'estate Insomma Sempre con la faccina di Minnie ho preso in bandana questo felpone super caldo e morbido bellissimo io li amo questi con questo ne ho tre infatti così c'è ne ho anche uno nero con Minnie se non sboglio però già l'ho visto prendo questa è S quindi non nel reparto bambini per una volta no non per una volta però ho visto che vivono le robe per bambini di 13-14 anni quindi mi pio quelle poi andiamo avanti e ho preso dei leggings verdi per l'autunno leggings classici normali che hanno tirina sempre nel reparto bambini magliettina insomma easy e vediamo un po' ve la stacco poi ho preso una federa per il cuscino con le foglie autunnale insomma morbida calda bella 3 euro ci sta addio shampoo per cani due in uno ci sia shampoo che passamo ci sta poi mi sono presa questa maschera per i capelli ve la consiglio molto buona agisce in poco tempo sia te la puoi mettere prima dello shampoo e sia dopo come maschera insomma candelina profumata molto buona la proverò poi un cerchetto mi è pure 50 con le farfalline queste di ferro un po' così però ci stanno ci stanno carino ci stanno e poi ho preso queste tazze ho preso questa che è bellissima mi piace un sacco è venuta 1,30 euro a forma di zucca c'era anche arancione ma non mi piace fa tanto l'arancione che aveva quindi l'ho presa bianca bella e anche un'altra tazza autunnale super carina anche questa mi piace un sacco e anche questa 1,50 euro a forma di zucca c'era bella poi ho preso questi c'è porta sale e porta pepe c'è salire pepe a forma di zucca dai guardate che bella bellissima questa è carina belle le userò subito e poi ho preso queste lucine erano in sconto 4 euro c'è anche la presa di corrente non solo batterie ne metterò su per la scrivania e nulla allora questi sono stati i miei acquisti che ho fatto nel negozietto e di pepco e nulla fatemi sapere cosa ne pensate se anche voi avete questa passione per le piante finte e siccome io amo l'autunno non potevo non prendermi qualcosa dell'autunno insomma e nulla io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video un bacione un bacione